Innanzitutto fare 14 occasioni da gol e fare solo due gol è troppo poco, avendo concesso solo quattro tiri all'avversario. Poi i discorsi lasciano il tempo che trovano. È ovvio che non posso essere soddisfatto del pareggio, ma in passato magari quelle partite le perdevamo pure. Voglio che la squadra ritorni a giocare il calcio che sa. È ovvio che abbiamo avuto qualche difficoltà con le piccole, più che altro di risultati, perché se io vado poi ad analizzare quello che abbiamo creato, le difficoltà che abbiamo creato agli altri, sicuramente abbiamo creato tanto, però quella che ci è mancata è un po' di determinazione di cattiveria sotto porta, ma è un po' una cosa che ci portiamo dietro da un po' di tempo. Dal mio punto di vista, per quello che creiamo, per la tipologia di gioco che sviluppiamo, abbiamo concretizzato troppo poco. È ovvio che loro ambiscono al meglio, ma come noi ambiamo al meglio, anch'io voglio che la mia squadra vada a giocarsi alla San Sirio senza timore, con la mentalità come abbiamo affrontato anche le altre grandi squadre, sapendo che è una partita difficile contro una squadra che ha subito pochissimi gol in questo campionato e che fa della fase difensiva la sua arma migliore. Ma io mi preoccupo tanto della mia, non tanto dell'Inter, per quello che ho detto anche ai ragazzi, al di là delle qualità importanti dell'Inter, che non a caso è prima in classifica, perché Mancini ha fatto un determinato lavoro, dando spazio anche a tanti giocatori, facendo capire che anche alternando ho visto grande sacrificio da parte di tutti, da parte degli attaccanti, perché è una squadra che ha una mentalità. È ovvio che sul piano del gioco può sempre migliorare, come può migliorare la mia squadra. Ci siamo presi una piccola rivincita al ritorno vincendo in casa. È ovvio che è stata un po' una sindrome da superare quella con l'Inter, l'abbiamo superata e dobbiamo andare con una mentalità, come ho detto prima, non dico spavalda, ma quasi, nell'andarla affrontare, perché noi dobbiamo essere bravi a ribattere colpo su colpo. È una squadra che ha, secondo me, una difensiva, specialmente nelle due centrali, fortissima. In primis Miranda, che ritengo forse il miglior centrale adesso che c'è in Italia. Ha davanti tante soluzioni ai giocatori di grande qualità, come gli Aic, gli Ovetic, ma lo stesso Perisic, che io conoscevo poco, visto solo nei campionati esteri, bravo a calciare con tutti i tuoi piedi, si mette sempre a disposizione della squadra. E poi c'è un giocatore che a volte magari sparisce nella partita per 20 minuti, mezz'ora, come i cardi, che però è decisivo poi dentro l'area. Penso che sia l'attaccante in questo momento che si sappia muovere più dentro l'area di rigore.